Di Casalecchio di Reno vince il primo premio del Festival del Teatro Scolastico con un'opera multimediale. Vediamo con Filippo Vendemmiati. E così trovò la bella bradamante il desiderato suo ruggero. Baci! Nel Palazzo di Atlante si insegue sempre, senza mai coglierlo, ciò che si desidera. Un pensiero in movimento, metafora del teatro e della scuola. Dududu Zeorlando, opera multimediale prodotta dall'Istituto Tecnico Salvemini di Casalecchio di Reno, ha vinto il primo premio del Festival Nazionale del Teatro Scolastico, finali alla Bonci di Cesena. Il teatro è la scuola senza banchi e senza sedie, è la scuola in piedi, è la scuola correndo, è la scuola muovendosi, è la scuola dialogante. Lo spettacolo è il risultato di tre laboratori, teatro, cinema e scrittura, che hanno unito studenti di diverse classi e integrando in modo esemplare ragazzi con abilità diverse. Voi cosa sapete dell'amore? Che ne so io dell'amore? Il video è stato utilizzato anche per far dialogare l'attore in scena con delle video interviste e di raccontarsi, per cui di uscire dalla messa in scena e diventare in un certo senso realtà attraverso la finzione. Mi sono appassionata a questa storia, tant'è che dopo me la sono andata a rileggere da capo a fondo. Infatti molte persone hanno detto anche che guardando il nostro spettacolo hanno rivalutato molto l'Ariosto. Dare più tempo alle coreografie e ai copioni dell'Orlando che è il libro di scuola. Mi ha fatto arrivare a certi livelli che non ero capace di arrivare. Sono quelli di tenere l'emozione a bada e di mettermi in gioco. In realtà ognuno di noi dentro di sé ha qualcosa da dare agli altri e ognuno è speciale a modo suo. È il momento del nostro...